Allora, eccoci qui nella nuova puntata di Whatsapp, siamo trasferiti sul balcone alla ricerca di una nuova normalità. L'ospite di oggi è Chiara Francini. Ciao Chiara, sappiamo che sei un'instaccabile lavoratrice. Come hai passato questi due mesi quasi tre di isolamento? Sono un'instaccabile lavoratrice, ma perché ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace molto, sia quello d'attrice che quello di autrice. Adesso sto scrivendo il mio quarto libro, quindi sono nel momento delle ricerche, nel momento della curiosità, nel momento in cui nonostante sappia precisamente quello che deve essere il percorso che devo fare, amo fermarmi per andare a visitare magari il prato che c'è sulla destra della mia strada, oppure il ruscello che c'è sulla sinistra, per poi continuare la mia strada rifocillata e dissetata e quindi camminare ancora meglio e arrivare più felice alla meta. Ecco, senti, una domanda che facciamo sempre. Qual è il film che consiglia ai lettori di Hot Korn? Film da vedere, rivedere oppure da scoprire? Il film che consiglio di rivedere è un film che ho amato moltissimo, un film di Vittorio De Sica, Umberto D., e personalmente credo che sia il più grande capolavoro di De Sica. Umberto D. è la storia di questo anziano, piccolo, delicato, riservato, che dopo una vita di lavoro si trova a dover cercare non di sopravvivere, ma di continuare a vivere con quella grande dignità, con quel grande rispetto che sempre l'avevano caratterizzato. Ed è soprattutto la storia di un grande amore, di un sentimento di incredibile amicizia che Umberto ha nei confronti del suo cagnolino. Umberto si trova a dover essere sfrattato da questa pensione in cui la proprietaria fa di tutto, fa di tutto per minare la sua dignità e quindi per minare la sua vita. E allora Umberto si trova a un certo punto, nonostante la sua dignità, si trova a chiedere, a provare, a chiedere aiuto, dei soldi, un pestito a un amico che incontra per strada. Ed è straziante la scena in cui l'amico capisce che Umberto gli sta chiedendo dei soldi, allora finge di non capire e si volta per prendere l'autobus dicendo scusa mi faccio tardi, ed è una scena che fa comprendere come veramente l'animo umano a volte possa essere così incredibilmente tagliente, così incredibilmente ruvido. Oppure la scena in cui Umberto insegna a questo cagnolino che ama più di ogni altra cosa a chiedere l'elemosina mettendogli il cappello in bocca e Umberto sta dietro vergognoso perché comunque è una cosa che lo lascia, era l'idea che il cagnolino e quindi lui, lui stesso, possano chiedere l'elemosina. È un film che rappresenta, io credo, uno degli esempi più belli di essere umano che siano mai stati rappresentati al cinema. La scena finale è una scena straordinaria, una scena che ci lascia con questi due protagonisti, con questi due esseri sbeccati, feriti ma incredibilmente sani per il fatto che sono uniti da questo sentimento d'amore vero e da questa cooperazione. Quindi li vediamo andare via in questo parco di spalle ed è il miglior augurio, è forse una delle scene, un epilogo perfetto per questo film che quindi vi consiglio di rivedere e di vedere se non l'avete mai fatto. Allora ringraziamo Chiara Francini per essere stata con noi e noi ci vediamo alla prossima puntata di WhatsApp.